Ragazzi sono qui a Berlino, veramente in cazzata nera, perché mi rendo sempre più conto che questo paese si ha il lavoro, ma le persone sono veramente razziste. Io sono andata a una parte del comune di Berlino per chiedere per la Meldung, perché praticamente bisogna farsi una registrazione, fare una registrazione e dopo che ci si trasferisce qui a Berlino hai un tot di tempo per farla. Non riesco a trovare assolutamente l'appuntamento online, quindi come una persona normale vado in questa frazione del comune di Berlino per chiedere la Meldung. Mi trovo tre tedeschi lì, tra cui due che non parlano totalmente l'inglese e una sì, quindi è tutto per favore, so please do you speak English, ho bisogno della Meldung perché se no mi scalano lo stipendio, ho un tot di limite di tempo. Uno di questi tedeschi, sapendo che non parlavo in inglese, essendo italiana, iniziavo a dire, ho, iniziavo a parlare tedesco, ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno e poi sentivo nella frase, che io non capivo ovviamente, spaghetti, spaghetti, spaghetti e tutti si sono messi a ridere. Questo per farvi capire, cioè io ho chiesto aiuto per una cosa comunque amministrativa, che purtroppo devo fare qui in Germania e l'aiuto è stato spaghetti spaghetti, quindi già lo stipendio è quello che è e lasciamo perdere il mangiare, non ne parliamo. Ragazzi, non vi trasferite mai. Ciao!